Pallavolo perché si gioca domani sera a Perugia, gara 3 della semifinale Scudetto tra Leoschius Perkinelmer e Sir Safety con la Leoschius che viaggia verso Perugia con il dubbio Leal, il ricorso contro le quattro giornate di squalifica inflitta allo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano è stato analizzato ma la sentenza arriverà soltanto nella giornata di domani in mattinate dunque nell'ultimissimo giorno, utile per sapere se Leal sarà o meno disponibile sul tema realista quasi pessimista coach Andrea Gianni nell'intervista della vigilia, sentiamolo Il nostro focus è quello di giocare senza gli oandi e non ci creiamo nella testa l'idea che lui possa giocare quindi siamo pronti con la squadra che è entrata in campo in gara 2 Quello che ci eravamo un po' preposti prima di questa gara 2 era di, nonostante l'assenza di gli oandi, di stare nella partita di stare sempre vicini a loro e diciamo che in quello lo abbiamo fatto non abbiamo secondo me colto alcune occasioni che secondo me potevamo gestire un pochettino meglio e loro nella partita poi sono cresciuti perché hanno fatto un primo set dove si vedeva c'era tensione poi dopo hanno preso veramente un bel ritmo e hanno finito giustamente, meritatamente di vincere la partita però in questi quattro set noi siamo sempre stati lì, abbiamo fatto un recupero nel terzo set incredibile di sette punti è un peccato che quel tipo di recupero poi sia svoltato in quella maniera lì queste partite vivono dell'aspetto agonistico e l'aspetto agonistico ti permette di recuperare risorse che in genere rimangono un po' sopite, devo dire che è più il livello tecnico che sale perché gli altri ti conoscono, prendono confidenza e per stare in queste partite il tuo livello deve crescere il nostro quarto posto ci dice che negli sconti diretti abbiamo 24 su 6, uno ha perso il tie break quindi